Ho letto che la radice della parola lussuria coincide con quella della parola lusso, che indica un'esagerazione, e quella della parola lussazione, che significa deformazione o divisione. Queste parole non hanno a che fare con il vostro insegnamento? Certamente, perché lussurioso è portato a concentrarsi sul corpo fisico dell'altro, negando la sua interezza. Anche la lussuria è quindi la conseguenza dell'insufficiente evoluzione dell'individuo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS